Fenomenon, fate sentire il primo grande applauso, bello forte! Ancora di più per tutto lo staff, gli organizzatori di questo magnifico locale, di questa bella serata, domenica sera, con Maria Malantieri al Fenomenon! Oh, siamo pronti eh? Partiamo subito a fare un po' di riscaldamento a tempo di cumbia! Ciao, ciao, quanti amici eh che si rivede! Oh, le grandi domenica sera del Fenomenon, questa sera con Maria Malantieri! Si parte! 3, 4, 2, via Mariano! 3, 4, 2, via Mariano! 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 1, via Mariano! Eccoli lì, benvenuta! Oh, iniziamo a scaldarci un po', eh. Salutiamo gli amici di Milano, gli amici di Varese, gli amici della Brianza, gli amici di Como, Alessandria, Borgomanero, Crona, Clovellona, Dormelletto, 1, 2, 3, 4, su! Crona, Borgomanero, 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 ragazzi, l'anima mamma di riscaldamento non ci parliamo, eh. Grazie a tutti. Andiamo avanti con le nostre nuove canzioni.